Cerchiamo di dare un contributo importante a far crescere le start-up e praticamente sono i cervelli del futuro. Nella vita, dicevo pure prima, uno vale quanto sa. Noi speriamo molto da questi giovani brillanti che hanno idee perché ci vogliono le idee e poi i soldi si trovano. Il 18 settembre, data di apertura della call, ci sarà l'avvio della seconda edizione della Start Cup Abruzzo, competizione che nasce con l'intento di favorire la creazione di nuove imprese nella nostra regione, selezionando e accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico provenienti da università ed enti di ricerca locali. Con questa edizione l'Abruzzo partecipa per il secondo anno consecutivo alla Business Competition, che annualmente si svolge nelle regioni aderenti al PNICUB, l'associazione che riunisce l'università e incubatori universitari italiani. Per noi è molto molto importante che le start-up trovino un sistema, attraverso questa piattaforma, di sostegno fatto sia dalla parte delle grandi imprese, sia dal sistema camerale, che è molto molto importante nelle attività di supporto, e sia dalle università che danno quel contenuto di conoscenze e competenze che di fatto molte volte manca ai progetti. Saranno valutate la motivazione e le competenze dei candidati a questo premio. Noi siamo orgogliosi come sistema camerale e in particolar modo come presidente dell'Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio di Pescara perché è la prima volta che finalmente accogliamo un premio e cerchiamo di lavorare come un ecosistema a livello regionale per fare in modo che i cervelli rimanghiano in Abruzzo.